ecco salve a tutti raga se avete fatto la completato tutte le sfide della settimana numero uno in questo video vi facciamo vedere dove andare a prendere la stella segreta ecco la stella segreta ragazzi della settimana numero uno amici di fortnite se il video vi è stato utile mettetevi un like ciao